Io durante la campagna elettorale delle regionali insieme all'attuale assessore Rixi ho fatto un giro per Genova e ho visto proprio questa realtà, nella zona di Accente all'Aquario, il porto vecchio di Genova, c'è proprio un mercato dove tutte le mattine si ritrovano circa 200 persone che vendono tutti i prodotti che hanno trovato nella zona dei cassonetti. Quindi non è un bel vedere e soprattutto non è una situazione dignitosa né per chi la vive ma né per chi la subisce, cioè tutti i cittadini genovesi che sono nelle vicinanze. Non è bello per nessuno, noi abbiamo chiesto in più di un'occasione, nel caso stiamo parlando di Genova ma succede anche in altre città italiane, abbiamo chiesto in più di un'occasione al sindaco di Genova di prendere una posizione ed evitare che succedano queste cose ma ahimè senza avere risposta.